Oroscopo del giorno, lunedì 7 settembre 2020 Ariete Amore Le energie di questa giornata saranno particolarmente forti, adatte ad affrontare qualsiasi situazione. E lunedì e anche in amore potrebbero esserci problemi o ostacoli. Attenzione però a come deciderete di comportarvi. Lavoro La vostra risposta a un lunedì sempre carico di cose da fare saranno tante idee interessanti. Toro Amore Oggi le stelle saranno dalla vostra parte, soprattutto la luna. Sarà una giornata perfetta per goliersi emozioni e sentimenti al fianco del partner. L'umore sarà leggero ma non mancherà la voglia di riflettere abbastanza su ogni cosa. Lavoro Sentirete la necessità di iniziare questo primo giorno della settimana con tanta forza. Molto bene Gemelli Amore Avrete la testa piena di pensieri, ma non saranno per forza negativi o dubbiosi. Anzi Se siete impegnati in una relazione di coppia, guarderete al futuro insieme. Non sarà difficile immaginare un domani al fianco della persona che si ama. Lavoro Le energie buone di questa giornata vi aiuteranno a credere ancora di più nei vostri obiettivi. Cancro Amore Per voi sembra essere arrivato il momento di fare un po' di ordine. Vorrete cercare di comprendere meglio alcuni aspetti. Deciderete di guardare anche avanti, cercando di immaginare un futuro imminente con il partner. Lavoro Avrete un'incredibile voglia di fare. Niente e nessuno potrà fermarvi. Leone Amore È probabile che in questo lunedì di settembre decidiate di mettere in chiaro alcune cose. Magari all'interno della storia d'amore ci sono cose che non funzionano bene. Forse è arrivato il momento di fare qualche cambiamento per restare meglio. Lavoro Potrebbe esserci una grande voglia di novità. Per alcuni è il periodo perfetto per affrontare una nuova avventura. Vergine Amore Oggi sarà davvero importante guardare i dettagli, a tutte le piccole cose. Riflettere e pensare bene, mettendo in ordine anche le emozioni. Questo vi permetterà di capire qualcosa in più rispetto al vostro rapporto amoroso. Vi aiuterà. Lavoro Per questa giornata non ci saranno troppe novità nell'aria, almeno sul piano professionale. Bilancia Amore Finalmente si apre un periodo più sereno nella vita di coppia. Sarà decisamente più naturale e semplice esprimersi e comunicare con la propria dolce metà. Una giornata positiva, in attesa di tempi ancora più interessanti per i sentimenti. Lavoro Se avete un obiettivo in mente, adesso non vi sentirete più così lontani dal raggiungere il vostro scopo. Scorpione Amore La luna è in opposizione e questo vi servirà per ritrovare una buona energia e affrontare al meglio tutti i piccoli problemi. Sarà possibile trovare delle soluzioni, anche perché non vi fermerete di certo di fronte al primo no. Lavoro L'energia si farà sentire pure sul lavoro. Sarete entusiasti di darvi da fare. Sagittario Amore In questo lunedì deciderete di mettere le cose al proprio posto, di fare ordine, chiarezza. Alcune situazioni non vi vanno a genio, eppure le dovete sopportare o tenere sotto controllo. Non sempre riuscite a non reagire. Lavoro Sarà una giornata perfetta per pensare in grande, a progetti che sembrano lontani. Capricorno Amore Sarà una giornata positiva ma tranquilla, senza troppe novità per le questioni amorose. Potrete affrontare ogni situazione con ottimismo. Magari potrete decidere di rendere il lunedì speciale, organizzando qualcosa con il partner. Lavoro Sarete decisamente audaci, nulla vi spaventa. Metteteci un po' di originalità in ogni progetto. Acquario Amore Occhio a come deciderete di relazionarvi con la persona che avete al vostro fianco. L'onestà in un rapporto di coppia viene prima di ogni cosa, e oggi dovrete essere particolarmente sinceri. In fondo starà tutto a voi. Lavoro Potreste avere voglia di qualche novità, di qualcosa di nuovo. Pesci Amore In questa giornata riuscirete a sentirvi a vostro agio prima con voi stessi e poi con gli altri. Non avrete il timore di mostrarvi per quello che realmente siete. Non avrete paura di dimostrare quello che provate e quello che volete. Lavoro Sul posto di lavoro sarete abbastanza creativi e questo vi distinguerà. In questa giornata riuscirete a tutti i nostri spettatori e questo viaggiare a tutti i nostri spettatori. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. In questa giornata riuscirete a tutti i nostri spettatori e questo viaggiare a tutti i nostri spettatori e questo viaggiare a tutti i nostri spettatori. In questa giornata riuscirete a tutti i nostri spettatori. In questa giornata riuscirete a tutti i nostri spettatori. Grazie per la visione!